Grazie, Presidente. Questo emendamento vorrei un attimo spiegarlo molto velocemente, rivolgendomi non solo alle donne, ma anche agli uomini presenti all'interno di quest'Aula, perché ormai non è più un luogo comune che i cosmetici vengono utilizzati solo dal genere femminile. Noi chiediamo semplicemente... È il 4.01? Ah, ok. Riintervengo dopo. Bene. Ha fatto un posto? Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 4. Ruocco. Ruocco. Terzoni non sta votando. Ah, Abrignani. Folino. Chi altro non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Baroni. Baroni ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. 453 favorevoli, due contrari. La Camera approva. Adesso andiamo all'aggiuntivo. 4.01 terzone, su cui credo che voglia intervenire la prima firmataria. Prego. Sì, grazie, Presidente. Allora, stavo dicendo che questo è un emendamento... Dueali. Grazie.